Sono illusori. Ieri sono stato al funerale di un mio caro amico. È stato un bagno di dolore per i parenti e per me. Commento. Il giorno dei morti, le onoranze funebri, tutti i riti che attengono al trapasso. Sono illusori. Quindi enfatizzano come definitivo un saluto al trapassato che continua a vivere in altre dimensioni di esistenza.